Hashtag Nutella perché gli algoritmi di Facebook e dei social hanno una posizione avanzata. Qual è la parola più ricercata oggi? Allievi che studiano. Ho provato a fare una ricerca, non c'è. Zero. Si può imparare a suonare uno strumento musicale senza studiare? Autididatti si può. È un bellissimo modo per avvicinarsi alla musica. Però poi hai sempre bisogno di un controllo esterno che ti aiuti a fare quel passo in più. Se no ti ritrovi con le dita così perché non si è accorto che ti stai uccidendo le mani. Non c'è la tecnica, esatto. Non c'è la tecnica, esatto. Poi da me arrivano... Ma quando canto c'ho una vena così, sbaglio qualcosa. No, è giusto. Ciao. 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 Alla prossima.